Amici di Primo Canale, bentrovati in un giornamento meteo con le previsioni per la giornata di mercoledì quando l'anticiclone interesserà ancora la Liguria, tempo assolato poco nuoloso, i venti inizieranno a ruotare però di libeccio e scirocco con le temperature fino a 27 gradi, nel complesso una giornata tranquilla cambiano invece le cose giovedì intanto sull'imperiese ampi rassernamenti, una giornata bella anche sulla costa con massime fino a 26 gradi Savona anche qui, alta pressione, tempo ampiamente soleggiato con massime del pomeriggio fino a 27 gradi localmente poi provincia di Genova, venti da Ostro e scirocco, tempo soleggiato o poco nuvoloso Tigulio una bella giornata da mare, diciamo che sarà una giornata pienamente estiva sul Tigulio di fatti il sole non mancherà dappertutto con temperature che durante il pomeriggio raggiungeranno i 26-27 gradi, di notte minime attorno ai 20 gradi sulla costa infine lo spezzino, tanto sole, alta pressione, tempo soleggiato o poco nuvoloso con venti in rinforzo di libeccio e Ostro Tendenza per la giornata di giovedì con il passaggio di un fronte che lambirà tutto il centro nodo d'Italia anche la Liguria, rapidi rovesci, venti sostenuti da prima in prevalenza da sud o sud a ovest e poi in rotazione di tramontana, mari mossi o molto mossi ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo Grazie a tutti